Assessore invece per quanto riguarda la situazione del basso Sebino, quali aggiornamenti ci può portare? Allora, la situazione è che di un lento montagno ritorno alla normalità, nel senso che la frana è monitorata a secondo per secondo con un sistema di monitoraggio molto attento e i dati ci dicono che la frana di fatto si è al momento fortemente rallentata, tanto che siamo usciti anche dall'allerta gialla, che era l'allerta minore, ma eravamo fino a qualche giorno fa in quella situazione. La strada provinciale è stata riaperta, come Regione Lombardia stiamo valutando un finanziamento per la strada comunale verso Parzanica per poter mettere delle reti paramassi in modo da poter garantire la riapertura anche di quella strada e garantire l'uscita dall'isolamento di fatto da quella comune. Ad oggi invece per quanto riguarda, come vi ho detto, abbiamo il monitoraggio, sono stati fatti degli studi sia sul discorso frana sia sul discorso invece della possibile onda. Per quanto riguarda sono studi molto più confortanti rispetto a delle preoccupazioni iniziali. Io ragiono sempre come livello di attenzione massima l'ipotesi peggiore. L'ipotesi peggiore oggi è la meno probabile, ma in termini di protezione civile noi dobbiamo parametrare il tutto considerando anche l'imposta, anche la cosa meno probabile. Magari non succederà, ci auguriamo che non succeda, ha pochissime percentuali possibilità di realizzarsi, ma quello deve essere comunque assolutamente attenzionata. E ci dice che nell'ipotesi peggiore potremmo avere un'onda di circa 6-7 metri, ancora tutta da verificare nella peggiore d'ipotesi su Tavernola, è un'onda pressoché simile su Monte Isola, onde invece minori nella parte nord del lago di Seo e ancora minori nella parte sud. Questo studio da parte dell'Università di Bologna sarà ultimato a breve, perché a breve avremo le indicazioni località per località, di quale sarà nella peggiore dell'ipotesi e anche la più improbabile quanto potrebbe essere l'onda, in modo da parametrare con esattezza tutti i piani di emergenza che dovranno essere riadeguati in base a queste indicazioni. Come Regione abbiamo finanziato un pronto intervento relativamente a quella situazione, altri 165 mila euro per lo studio della frana, finanziando anche i piani di emergenza. Abbiamo anche finanziato al Comune di Tavernola la possibilità di acquisto di alcune sirene in caso di allarme. Quindi oggi in una visione di protezione civile la frana che è assolutamente monitorata oggi rappresenta una situazione di non pericolo. Gli studi ci dicono che qualora dovesse cominciare a fare le bizze ci sono circa 24 ore di tempo per adottare tutte le misure necessarie. Quindi gli studi ci dicono che non ci sarebbe un crollo improvviso, a prescindere dalle quantità, ma lascerebbe un lasso di tempo significativo. E quindi riparametrare adesso tutti i piani di emergenza in base alle indicazioni che ci arrivano. Però, ribadisco, adesso stiamo anche lavorando per un progressivo ritorno alla normalità all'interno di visioni di emergenza che dobbiamo assolutamente considerare, ma che al momento, grazie al cielo, non sono attuali. Come regione stiamo in questi giorni anche verificando, cosa che penso faremo, il finanziamento di uno studio di fattibilità per capire che una volta ferma la frana, se ci sono possibilità di intervento per eliminare il pericolo. Quali possibilità, se ci sono queste possibilità, non lo so, appunto per questo faremo questo studio. Qualora dovessero esserci quali, non lo sappiamo, aspettiamo lo studio, ma nei prossimi giorni come regione ulteriormente interveremo anche con questo tipo di finanziamento. Ci auspichiamo, visto che ci sono state varie iniziative parlamentari da varie forze politiche, ci aspettiamo anche un aiuto dal governo centrale, visto che ancora una volta la regione insieme ai territori stiamo sopportando da soli questa emergenza. Penso che anche da altre latitudini, visto che il rischio idrogeologico è una competenza anche e soprattutto statale, possono esserci adeguate forme di finanziamento per prevenire e per intervenire sulla situazione.